E torniamo molto volentieri sul Grande Fratello Vip, signori, perché abbiamo una notizia su Edoardo Donnamaria e non vogliamo farcela assolutamente sfuggire. Detto questo, prima di iniziare, prima di iniziare, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, non vi rubo altro tempo e partiamo subito con questa confessione da parte di Edoardo Donnamaria, che prima confessa e poi però che fa? Dice addio ad Antonella Fiordelisi. Quindi a costringere il vippone a cantare, diciamo tra virgolette, è stato Alfonso Signorini, che subito dall'inizio della diretta ha pressato il volto di forum per arrivare piano piano a fargli dire la verità. E tanti commenti che sono giunti, tipo, io non ho mai creduto nella relazione tra Edoardo e Antonella, tantomeno che potessero amarsi, ma arrivare a godere del fatto che una donna venga tradita e trattata così male solo perché vi è antipatica, ma anche no. Io non la sopporto, ma l'unico che meriterebbe tutto questo odio è Edoardo. Vattene a casa, schifoso! E ancora, gli spartani de sto cazzo sparlano di tutti, fanno gruppo, bullizzano le persone, non perdono tempo a parlare sempre di Nikita e Antonella, nel van si staccano i microfoni, danno del gay a Daniele, poi si parano il sedere dicendo che scherzano, non sapete fare altro. Nel dettaglio Edoardo si è trovato con le spalle al muro e alla fine ha deciso di confessare cos'è accaduto tra lui e Nicole Murgia nel van del GF VIP 7. Edoardo Donnamaria confessa di aver toccato il seno di Nicole Murgia. A prendere la palla era stata proprio la vippona, poi eliminata, parlavamo di chirurgia plastica. Edoardo ha fatto una battuta sul fatto che non avesse mai visto tanti seni rifatti tutti insieme e mi ha detto che il mio seno era duro quindi l'ha toccato con un dito e poi ha capito che erano morbide. Ha però specificato di non provare attrazione per Edoardo. Ci siamo abbracciati mille volte anche di fronte ad Antonella. Non c'è alcuna attrazione da parte mia nei confronti di Edoardo. Edoardo ha dato la stessa versione. Se l'avesse fatto lei io sarei impazzito, ma è stata una cavolata. Avevo fatto una battuta sulle tette rifatte e o l'ho toccata con un dito. Resta un gesto non malizioso. Durissima la reazione di Antonella. Lo ho fatto mentre c'ero io nella casa e consapevole del fatto che ci fossero le telecamere. Pensa cosa sarebbe accaduto senza telecamere. Edoardo mi ha detto che ha toccato le tette della Murgia quella sera nel van. Ma lo dice adesso? Perché non l'ha detto subito? Poi mi fa le prediche su tutto. Pensa senza telecamere cosa avrebbe fatto. Mi dispiace per i Donnalisi perché so che siamo seguiti e siamo amati. Ma non mi interessa del gioco. Mi ha fatto la predica perché da singolo ho fatto un massaggio ad Antonino e adesso senza microfono tocca il seno della Murgia. Non gli ho mai fatto niente e ci tengo. E dopo queste dichiarazioni possiamo dire che questo è tutto per questo video. Grazie a tutti della visone e mi raccomando. Pollicione in su. Grazie a tutti.